Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, scusateci il ritardo, problemi di connessione che non sono solo della Camera dei Deputati ma della metà della popolazione italiana in questo periodo di sovraccarico, vedremo di essere assolutamente rapidi. Oggi nel percorso di ricostruzione nazionale a cui sta lavorando la Lega con tutte le associazioni di categoria, le associazioni dei produttori. Oggi tocchiamo un settore che riguarda almeno 5 milioni di italiani, quasi totalmente dimenticato dalle politiche del Governo di queste settimane, di questi mesi, parliamo di disabilità, di tutto quel popolo italiano di disabilità fisica, psichica, motoria che ovviamente soffriva prima del virus e a maggior ragione soffre durante il virus quindi non filosofia ma due o tre proposte concrete che la Lega ha già presentato all'attenzione del Governo, fino ad oggi inascoltati, ahimè, che arrivano dalle associazioni dei disabili presenti sul territorio una follia su tutte il fatto che dal famigerato bonus 600 euro siano escluse migliaia e migliaia di disabili per il solo fatto di percepire una pensione di invalidità e di essere ancora nel mondo del lavoro e quindi abbiamo testimonianze concrete, questo è un errore clamoroso presente nel decreto Cura Italia, di lavoratrici e lavoratori ammalati di tumore ancora in chemioterapia che siccome prendono due o trecento euro di invalidità sono esclusi da ulteriori bonus e quindi siccome nessuno si è cercato il tumore o l'invalidità mi sembra veramente moralmente indegno escludere questa fetta di popolazione italiana ma è uno dei tanti esempi di miglioramenti che abbiamo proposto al Governo. Poi il Presidente Conte evidentemente si deve mettere d'accordo con se stesso e con la sua maggioranza perché se ieri viene in Parlamento a dire vogliamo dialogare e stanotte ancora alla Camera sono stati bocciati tutti e ripeto ai giornalisti tutti gli emendamenti della Lega e del centrodestra al decreto Cura Italia non puoi chiedere il dialogo alle tre del pomeriggio e stroncare il dialogo alle undici della sera perché io ricordo centinaia di emendamenti giudiziosamente concretamente presentati dalle opposizioni di centrodestra come sostegno al Governo e al Paese tutti sistematicamente bocciati dal primo all'ultimo quindi evidentemente la voglia di dialogo del Presidente Conte serve alle telecamere ma in concreto si riassume in zero. Prima di passare al merito lo dico ai colleghi giornalisti stiamo lavorando come Lega e come centrodestra un grande piano di ricostruzione nazionale a questo punto a prescindere da un Governo che vuole far da solo perché annuncia in televisione il dialogo e il dialogo lo boccia segando una per una tutte le proposte che arrivano dalle associazioni di categoria quindi stiamo preparando un piano di ricostruzione nazionale insieme a tutte le associazioni di produttori di imprenditori di commercianti di agricoltori di lavoratori di volontari dal mondo della cultura al mondo del turismo al mondo dello spettacolo al mondo della ristorazione guardando anche a quello che accade in altri paesi europei infatti leggiamo che nella vicina Austria dal primo maggio riapriranno addirittura centri commerciali parrucchieri e attività sportive che prevedono le distanze in Danimarca sono già riaperti attività commerciali come quelle dei parrucchieri degli estetisti e altre attività psicologi dentisti scuole guida e chi decide di rimanere chiuso pensate a il pagamento dell'ottanta per cento delle spese fisse da parte dello Stato mentre commercianti imprenditori artigiani negozianti e liberi professionisti in Italia hanno un contributo zero se non la possibilità di fare debito. Nella Baviera che è la regione tedesca più colpita dal virus sono già riaperte attività di giartinaggio di bricolage e da settimana prossima riapriranno i negozi di bici concessionari di auto quindi su cosa sta lavorando la Lega e su cosa vorremmo ripartisse il paese su una ripartenza graduale protetta sicura non tutti e non subito fondata sul buon senso ma occorre riaprire le porte dei negozi delle aziende delle case degli italiani con mascherine con guanti mantenendo le distanze sanificando gli ambienti di lavoro ma ogni giorno che passa è un giorno perso nel nome della ricostruzione quindi cercheremo di offrire agli italiani dico al governo perché noi continueremo a fare proposte anche se ormai abbiamo capito che le proposte che arrivano dalla Lega e dall'opposizione sono immediatamente cestinate però l'Italia merita un piano di ricostruzione nazionale e un'alternativa alle ricette fondate sulla burocrazia sullo statalismo sulla complicazione di questo governo c'è è un'alternativa liberale fondata sulla libertà d'impresa sulle libertà personali sulle garanzie personali sui diritti personali che in queste settimane sono stati negati a fronte di garanzie economiche che gli italiani si stanno rendendo conto per il momento sono solo chiacchiere e quindi il piano di ricostruzione nazionale lo offriremo al paese noi ripeto non scritto da noi ma scritto a quattro mani insieme a tutte le associazioni di categoria nota a margine che mi sta particolarmente a cuore perché su questo ci sono reazioni di migliaia e migliaia di italiani da nord a sud l'uscita anticipata dal carcere di mafiosi condannati per mafia e fino a poco tempo fa isolati nelle carceri con regime duro del 41 bis che in base a una circolare del ministero della giustizia ministero della giustizia datata 21 marzo 2020 se di età superiore ai 70 anni e con qualche patologia sono liberi di uscire poi è cominciato il balletto dello scaricabarile classico di questo governo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dipendente dal ministero della giustizia dice sostanzialmente se escono è scelta della magistratura la magistratura dice noi dobbiamo stare a quello che il ministero ci chiede fatto sta è già a casa il signor francesco bonura capo mafia di palermo condannato a 23 anni uomo di bernardo prudenzano è già a casa il signor vincenzo iannazzo condannato in appello per ndrangheta 14 anni considerato boss di lamezia terme e stando a questa circolare rischiano di uscire di galera per soncine per bene come leoluca bagarella pippo calò raffaele cutolo nitto santa paola non esiste per dignità per rispetto dei familiari dei morti di mafia per rispetto delle forze dell'ordine cadute per combattere la mafia per rispetto dei magistrati e dei giornalisti caduti per mano mafiosa chiudete le porte delle carceri a mafiosi camorristi e ndranghetisti agli italiani e a me non interessa se è colpa di bonafede colpa di basentini e colpa del tribunale di sorveglianza e colpa di tizio e colpa di caio non ce ne frega niente chiudete le porte delle celle per i mafiosi anche perché ragionamento finale se sono in isolamento al 41 bis come cacchio fanno a contagiarsi sono più sicuri al chiuso di una cella isolata protetta e sicura in carcere che non ai domiciliari con moglie figli e parenti quindi questa è una delle tante vergogne su cui non taceremo più abbiamo fatto passare alcune settimane in cui ci si chiedeva giustamente collaborazione dialogo suggerimento dopo 42 giorni di quarantena tutte le nostre proposte fatte al governo sono finite nel cestino di più ci sono invalidi esclusi dai 600 euro ci sono imprenditori a cui in banca non viene dato un centesimo ci sono mafiosi che escono di galera non non è possibile lavoriamo a un'alternativa l'italia merita di essere costruita e ricostruita su fondamenta solide serie moralmente ineccepibili e di buon senso quindi una ripartenza graduale omogenea in italia protetta e sicura è fondamentale ci rifiutiamo di pensare che anche a maggio gli italiani i lavoratori i produttori gli artigiani le partite iva gli agricoltori siano costretti a rimanere o a casa o a sottostare a vincoli assolutamente inaccettabili il diritto alla vita viene prima di tutto però la libertà non può essere svenduta nel nome del virus alessandra associazioni di volontariato disabilità terzo settore le proposte ne abbiamo fatte a decine per motivi di tempo magari ricordiamo le due o tre principali ripeto che arrivano dal confronto costante con le associazioni dei disabili per il momento ascolto da parte del governo mi sembra aver capito zero zero alla faccia del dialogo noi però siamo testoni e insistiamo a chiedere cosa grazie cerco di essere sintetica insistiamo a chiedere innanzitutto che si riparta dalle famiglie dalle persone e quindi per farlo non può esserci una vita dignitosa soprattutto nella ripartenza per chi con una disabilità ha ancora maggiori spese da affrontare durante la giornata durante la vita quotidiana quindi sicuramente il tema dimenticato dell'assegno del voucher da poter dare anche a chi percepisce l'assegno di invalidità ma noi chiediamo anche l'aumento dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità perché siamo ancora ad un livello poco dignitoso meno di 300 euro percepite dalle persone non non riescono a soddisfare insomma tutte le le necessità della vita quotidiana soprattutto in un momento come questo questo è un tema che noi abbiamo sempre portato avanti anche quando eravamo al ministero anche in un'interpellanza a ottobre che non ha avuto ovviamente riscontri e risposte positive dal governo ma lo rifacciamo noi andiamo avanti lo riproponiamo anche nei prossimi decreti come tema centrale ovviamente anche rispetto al confronto che è stato fatto con le associazioni che si occupano di disabilità a tutti i livelli e soprattutto quello nazionale e poi chiediamo l'aumento del fondo nazionale non autosufficienza non era sufficiente prima l'erogazione di questi fondi l'avevamo già chiesto che venissero aumentati l'hanno chiesto non solo la lega in quanto tale ma tante regioni come istituzioni che poi erogano i fondi e devono anche dar conto di quello che fanno quindi noi chiediamo che venga dato riscontro abbiamo inserito questa proposta al senato alcune taglia l'abbiamo reinserita adesso insieme alle associazioni e naturalmente non c'è ancora una risposta certa da parte di questo governo e poi chiediamo che venga posta attenzione al terzo settore perché come dicevi prima te mateo c'è il tema del volontariato di tutte quelle associazioni che si occupano di cura ma anche di coesione sociale e che hanno bisogno di ripartire con un sostegno chiaro questo sostegno non può non arrivare dai territori chi si occupa di assistenza di cura di enti del terzo settore ha bisogno che il territorio sia forte gli possa offrire anche economicamente la possibilità di andare avanti se il governo non si occuperà direttamente di un sostegno diretto ai nostri sindaci agli enti locali per poter sostenere i servizi essenziali e anche quelli di volontariato rivolti insomma dalle associazioni ai minori ai disabili agli anziani tutti questi settori avranno una sofferenza enorme ci ritroveremo con la riapertura a non avere i servizi questo sarebbe un danno gravissimo quindi speriamo che se ne possa occupare e se me lo permettete io cito un'ultima cosa che è stata negata dall'inizio al senato alla camera noi continuiamo a riproporlo in tema di rsa e attenzione per gli anziani io ho proposto un emendamento sulle linee guida ma che guardate non vuol dire solo linee guida rispetto a protocolli e indirizzi da utilizzare nelle strutture che si occupano di persone anziane si tratta di persone la fascia debole più colpita da questa emergenza sanitaria e che non è stata presa in considerazione da questo governo io inizio a chiedermi se si tratti di una dimenticanza perché allora il governo può porre rimedio perché io questo emendamento continuerò a riproporlo fino alla fine per equiparare anche la protezione di chi lavora all'interno di queste strutture e degli anziani che ci sono all'interno a quella degli dei presidi ospedalieri perché in realtà questo poi avviene bisogna curare gli anziani nelle nostre strutture e garantire la protezione a chi ci lavora per poterli ovviamente curare tutti i giorni io mi chiedo se sia solo una dimenticanza e quindi possiamo rimediare oppure se sia una scelta specifica perché in questo caso io credo che non sia da accettare e da tollerare l'emergenza è stata dichiarata sono state emanate linee guida specifiche e molto dettagliate per gli ospedali noi chiediamo che altrettanto possa essere fatto con la rsa dove ci sono le categorie più fragili e colpite da questo virus perfetto quindi non mancano le proposte settimana scorsa abbiamo evidenziato la ricostruzione dal punto di vista della lega del mondo del turismo della ristorazione dei pubblici esercizi anche qua con aiuti concreti alle imprese alle famiglie per il momento a parole il governo ha dimostrato interesse nei fatti così come sul tema disabili l'interesse si è rivelato sostanzialmente inesistente se ci sono domande a distanza come ormai usuale in queste conferenze online vediamo di riuscire a rispondere ma la rati g2 anche rispetto a questi temi che avete trattato oggi quindi disabilità avete qual è stato l'atteggiamento delle opposizioni dell'atteggiamento del governo e della maggioranza in parlamento il governo ha bocciato tutte le proposte che sono arrivate da lega forza italia fratelli italia tutte tutte poi io ricordo come lega ad esempio ne abbiamo presentato 204 emendamenti su tutti i settori affitti bollette lavoratori frantaglieri stipendi dei medici forze dell'ordine partite iva bonus babysitter uno non pretende dal governo che su 204 emendamenti te ne accolgano 200 o 100 o 90 però uno cioè 203 bocciati su 204 quindi ormai ripeto siamo al 42esimo giorno di chiusura forzata siamo al 42esimo giorno di dialogo a chiacchiere del presidente del consiglio che poi va a bruxella trattare avendo impedito al parlamento perfino di votare i limiti entro i quali andare a trattare quindi mi sembra chiaro e evidente che chi non vuole il dialogo e l'attuale governo è un peccato perché per la ricostruzione del paese dalle fondamenta serviranno le idee di tutti se qualcuno si ritiene autosufficiente dio in terra non fa un torto a salvino alle posizioni a un torto all'italia agli italiani penso che sarà necessario un cambio di passo almeno questo ci chiedono le associazioni dei produttori e tutte le categorie professionali e lavorative perché la mancanza di ascolto la mancanza di collaborazione la mancanza di rispetto delle leggi del buon senso e del buon gusto non è più tollerabile saita di annecronos ieri sera denunciando lo scandalo dei mafiosi al 41 bis che stanno uscendo per il rischio da coronavirus lei ha citato la festa di liberazione dal nazifascismo il 25 aprile che cosa voleva dire che significato ha per lei questa festa si parla di libertà che è il valore fondamentale che ci hanno lasciato i nostri genitori e i nostri nonni e non può essere rimessa in discussione da parte di qualcuno nel nome del virus le vittime di mafia si staranno rivoltando nella tomba alla notizia dell'uscita di carcere dal carcere alcuni capi mafia quindi è chiaro che sarà un 25 aprile particolare come sarà un primo maggio particolare ma come sono tutte oggi è una giornata particolare unica al mondo io ho il telefonino pieno da stamattina di problemi veri che riguardano gli affitti le bollette i mutui la luce il gas il figlio autistico ecco noi abbiamo chiesto e chiediamo con forza gridiamo con forza la necessità per alcune disabilità di poter tornare a uscire immediatamente in maniera sicura in maniera protetta con la mascherina con i guanti stando a distanza con l'accompagnatore ma soprattutto la disabilità psichica il disagio psichico non può rimanere chiuso altre settimane in casa quindi un paese serio permette ai malati di autismo e a coloro che soffrono di disabilità psichica di uscire di casa non per andare a un concerto o per andare in discoteca o per andare al cinema ma per fare due passi all'aperto e tornare a respirare e a fare una vita normale quindi mi auguro che il 25 aprile coincida con una giornata di libertà però libertà vera ripeto tutelando la salute di tutti però non è possibile essere circondati in europa dalla svizzera all'austria alla germania la danimarca e paesi dell'est che riaprono che tornano a respirare a produrre e qua non si sappia nulla ci sono 15 task force ormai abbiamo perso il numero delle task force cioè c'è un governo che non risponde al parlamento e crea task force due al giorno ma non si è capito ancora se e quando gli italiani potranno tornare a uscire rossi di la press sempre per matteo salvini tagliani ha ribadito oggi sul corriere l'appoggio a conte nella trattativa o è per pur contestando il governo delle quattro sinistre la sua idea qual è ma l'appoggio per fare cosa se l'alternativa proposta dalle forze di governo è dipendere in futuro come italia o da pechino o da berlino questa è l'alternativa i cinque stelle dicono mettiamoci nelle mani dei cinesi il pd dice mettiamoci nelle mani dell'europa e quindi dei tedeschi della germania della merkel la terza via nell'interesse nazionale è né con pechino né con berlino ma in italia con gli italiani e quindi sostegno a chi per fare cosa per svendere le nostre aziende le nostre libertà conquistate dai nostri genitori no e quindi la ricetta qual è emissione di buoni del tesoro esentasse destinate a rispermiatori italiani con la garanzia della banca centrale europea lo stiamo ripetendo da settimane non vorremmo che qualcuno invece avesse già preso impegni o con pechino o con berlino perché io non voglio che i nostri figli dipendano dagli umori di multinazionali o potenze straniere agenzia vista su una possibile riapertura dello sport e del campionato a porte chiuse lei che cosa ne pensa che onestamente è l'ultimo dei miei problemi quello del campionato di calcio dei problemi degli italiani penso invece a ritornare a un'attività sportiva e fisica di base che sta mancando a milioni di italiani quindi al di là delle partite del milan della juve porte aperte porte chiuse intorno al mondo dello sport ci sono 5 milioni di italiani ci sono migliaia di posti di lavoro io penso che se in altri paesi ripeto l'austria non è nuova zelanda l'austria è alle porte di casa nostra se dal primo maggio oltre a parrucchieri estetisti negozi centri commerciali riapriranno alcune attività sportive fatte a distanza e citano ad esempio il gioco del tennis io ritengo che restituire agli italiani la libertà di fare esercizio fisico sia anche utile alla salute non per il gusto di andare a fare una sgambettata fuori di casa quindi il campionato di calcio è l'ultima delle cose che 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 mi interessano anche perché visto come stava giocando il milan più tardi riprendiamo più tardi ricominciamo a soffrire però lo sport di base fatto anche singolarmente o a coppia a distanza dovrebbe tornare a poter essere un diritto sempre vista sempre per Matteo Salvini abbiamo assistito a uno scontro Roma Lombardia per la gestione della crisi lei che cosa pensa delle parole di crimi che ha affermato che le valutazioni sulle responsabilità eventuali responsabilità si faranno in un secondo momento qua c'è lo sport nazionale da parte delle forze maggioranza di chiedere il commissariamento un giorno bisogna commissariare la Lombardia poi il Veneto poi il Piemonte non so se lo fanno a caso se alzano la mattina io penso che occorra lavorare insieme per continuare a ridurre il danno fortunatamente in Lombardia è da giorni che diminuiscono sia i ricoveri che gli intubati nelle terapie intensive quindi onore a tutto il sistema Lombardo così come a quello piemontese a quello Veneto anche a quello emiliano e abbiamo letto dei dati in base ai quali ad esempio nelle residenze per anziani c'è un tasso di mortalità addirittura maggiore in Emilia Romagna ma nessuno si è sognato di dire commissariate in Emilia Romagna mandate gli ispettori i giudici gli avvocati i magistrati nelle case riposo in Emilia Romagna è differenza di stile è differenza di gusto evidentemente la fame di poltrone da parte di qualcuno nel PD o nei 5 Stelle evidentemente prevale su su altri ragionamenti è chiaro che delle considerazioni a livello nazionale andranno fatte se è vero come vero come abbiamo letto sui giornali da parte di qualche collega giornalista più libero e coraggioso di altri che c'era un piano di emergenza nazionale nei cassetti del ministero della sanità già mesi fa che non è stato diffuso per evitare il panico questo sarebbe di una gravità enorme cioè è chiaro che il governatore della Lombardia o il governatore della Calabria o il governatore dell'Emilia Romagna non hanno informazioni che possono essere in mano a un ministro a livello nazionale se è vero che c'era un piano di contrasto alla pandemia nei cassetti del ministero della salute già da mesi che è stato tenuto nascosto non solo al popolo italiano ma anche ai sindaci e ai governatori sarebbe di una gravità inaudita e quindi più che andare a cercare colpe a Bergamo a Piacenza a Cuneo o a Verona a pandemia bloccata evidentemente qualcuno ne dovrà rispondere però ripeto noi stiamo concentrando le nostre giornate io personalmente non tanto su è colpa mia è colpa sua è colpa tua quanto su un grande piano di ricostruzione nazionale che passa ovviamente da un'idea diversa da quella della sinistra da un azzoramento totale della burocrazia dei vincoli dei lacci permessi contro permessi si fonda su una totale libertà libertà di impresa io vedo un paese pieno di gru chiaro che per fare i cantieri devi sbloccarli i cantieri e quindi non solo l'alta velocità fra Piemonte e Francia ma l'alta velocità in tutta Italia l'altra velocità fra Napoli e Bari la dorsale adriatica quindi un grande occasione per riunificare il paese cosa che non si è riuscita a fare nel dopoguerra. Giuliano Rosciarelli alla News secondo alcuni giornali la adessione al MES divide la Lega lei che cosa commenta? Lasciamo alle fantasie di Repubblica o di qualcun altro le divisioni all'interno della Lega il confronto è costante e quotidiano con governatori sindaci deputati e senatori è un giochino che stanno provando a fare da quando la Lega è nata però non esiste nessun tipo di divisione o di frizione piacerebbe a qualcuno ma ahimè rimarranno delusi ecco speriamo che essendo il tema di oggi delicato e rilevante anche prima del virus su un tema delicato come disabilità terzo settore anziani categorie protette il governo non escluda tutte le associazioni tutto il mondo del volontariato tutto il mondo del terzo settore cosa che purtroppo fino ad oggi ha fatto e chiudo mi auguro che quanto prima non è una questione personale io non li conosco li conosce la giustizia italiana e li conoscono le loro vittime però il signor Francesco Bonura il signor Vincenzo Iannazzo il primo condannato per mafia in via definitiva 23 anni di carcere il secondo condannato in appello a 14 anni e 6 mesi di carcere per reati in idrangheta ritornino laddove la giustizia italiana li aveva destinati e il buon senso e il buon gusto li aveva destinati ovvero sia in galera e che qualcuno al ministero della giustizia abbia il buon senso e il buon gusto di ritirare una circolare grazie alla quale i mafiosi stanno uscendo e rischiano di uscire in maniera massiccia dalle carceri italiane perché la libertà conquistata dai nostri nonni non è in vendita non basta cantare bella ciao sul balcone il 25 aprile per dirsi italiani ecco nel mentre qualcuno canta bella ciao sul balcone ti escono tre camorristi di galera cantare di meno e lavorare di più magari a qualcuno potrebbe essere utile ci aggiorniamo a settimana prossima su altri temi perché l'abbiamo detto c'è il tema del lavoro delle partite iva del mondo sportivo ripeto non non cristiano ronaldo o il portiere del milan ma tutto lo sport di base lo sport dilettantistico il mondo delle palestre delle società a livello territoriale sta soffrendo in maniera incredibile quindi anche su questo occorre intervenire la seconda l'ultima domanda segretario salvini come vanno i rapporti con giancarlo giorgetti abbiamo letto e scritto di dissidi sui rapporti con l'europa cosa ci può dire al riguardo l'opapa di repubblica la prossima volta che ci troviamo ieri mi sono trovato un'ora con giorgetti per appunto ragionare del piano ricostruzione che stiamo a cui stiamo lavorando con tutte le categorie produttive la prossima volta lo faremo in diretta streaming facciamo una foto da twittare in cui io e giorgetti siamo alla scrivania a ragionare lavorare scrivere insieme poi rispetto quei giornalisti che per ordine dell'editore o del direttore devono inventare cose che non ci sono però se quando litigherò con qualcuno lo comunicherò perché penso che gli italiani sappiano che non ho pedi sulla lingua abbiamo provato a dialogare per 42 giorni dal nostro punto di vista si è infranta la legge e la costituzione in più di un caso quindi il dialogo noi continueremo a cercarlo però dialogare con un muro è difficile dialogare con uno che non ti vuole ascoltare è difficile noi insisteremo senza svenderci né a pechino né a berlino e i litigi in casa lega li lascio a retroscena di repubblica o di qualcun altro purtroppo per loro non ci sono magari ci saranno fra un anno fra due anni detto questo se pensano di farmi innervosire dicendo che abbiamo dei bravissimi governatori dei bravissimi sindaci e dei bravissimi parlamentari per me è solo un orgoglio cioè che regione veneto sia guidata da lucazzaia regione lombardia sia guidata da tiglio fontana è una garanzia non solo per il segretario della lega ma anche per i veneti per lombardi vale per l'umbria vale per il friù di venezia giulia vale per trento per bolzano per la sardegna per la calabria e per tutte le regioni dove la lega il centro destra sono sono maggioranza e quindi sono solo contento che le donne gli uomini della lega si distinguano siccome oggi probabilmente vedo giancarlo giorgetti lo farò riservatamente per repubblica in diretta streaming ci abbraceremo a distanza con mascherina e guantini tanto domani scriveranno qualcosa di diverso ma ripeto ognuno fa il suo mestiere